Nei giorni scorsi, durante la conferenza sociosanitaria di Piacenza, alcuni sindaci hanno sollevato il problema delle liste ricevute dall'Asla di Piacenza, contenenti nomi non aggiornati o sbagliati di cittadini sottoposti a quarantena. In quanto sindaco, puntualizza Roberta Battaglia di Caorso, sono garante della tutela della salute pubblica. Queste informazioni le devo avere. A noi hanno chiesto di tutelare giustamente la salute e la sicurezza dei cittadini, però le liste che ci hanno mandato dall'Asla non erano corrispondenti alle informazioni che noi avevamo e quindi è molto difficile poter controllare delle quarantene o altre situazioni se non abbiamo effettivamente la situazione noi stessi sotto controllo. E neanche i vigili e i carabinieri, ovviamente, che devono appoggiarci in questo discorso, non avendo segnalazioni pertinenti, non potevano operare in modo congruo. Quindi questa è stata, effettivamente abbiamo chiesto di farci sapere perché non corrispondevano le liste che ci venivano mandate con quelle che erano effettivamente i nostri riscontri, anche perché la popolazione stessa, i cittadini, ci chiamavano dicendoci che comunque avevano in quarantena perché avevano determinati problemi e non corrispondevano. Quindi questa è stata una grave lacuna in un momento nel quale invece bisognava assolutamente avere un controllo su quello che era il territorio perché il cittadino responsabile si comporta da cittadino responsabile, la maggior parte lo sono stati. Però se qualcuno non lo è, certamente non ci possono chiedere di controllare qualcuno che noi non sappiamo. I primi cittadini vogliono sapere dal direttore dell'ASL, Baldino, se i sindaci possono tornare ad essere o meno i depositari della sanità pubblica, ma ancora adesso non hanno dati aggiornati sull'evoluzione dell'epidemia nei loro comuni. Dall'ASL di Piacenza hanno risposto? La risposta dell'ASL è stata che ci avrebbero contattato per confrontare quali che erano queste discrepanze che c'erano, ma io a tutt'oggi non ho avuto nessuna telefonata.